Smog, pesticidi, microplasti che nocciano soprattutto ai più piccoli secondo la recente guida Bambini e Inquinamento scritta dal gruppo di ricerca pediatri per un mondo possibile. Gli specialisti puntano il dito sull'inquinamento dell'area esterna in cui sono presenti particolato monossido di carbonio, ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo. Per controbilanciare gli effetti avversi degli inquinamenti atmosferici, i pediatri consigliano di far stare il più possibile i bambini in mezzo al verde.